Ah, voi siete l'alcatore? No, no. E' che sceglie? Lo cipper? Ma che sceglie? Semplice. Farinaio. Farinaio semplice. Sì. Mi raccontate dell'accoglienza a sorrento? No, no. Siamo trovata sempre con il piatto. Questa panca era presente anche negli anni scosti, non me l'ha ricordo. Da dove venite precisamente? In bocca al lusco, il tempo che avete sperimentato in questi giorni che già state qua, come si muove? La brezza pomeridiana ci fa lo luscio? No, è perfettato. In bocca al lusco, in bocca al lusco.